Siete pronti per rimanere a bocca aperta? Bene, guardate qua, stavo provando Luminar Neo e mi ritrovo per caso a premere questo pulsante. Il software fa i suoi calcoli e... beh, semplicemente wow! Ciao a tutti, io sono Federica e sono una fotografa professionista. In queste settimane ho avuto modo di provare Luminar Neo e in questo video vi racconto le mie impressioni, offrendovi anche una panoramica generale del software. Nel frattempo vi informo che se volete provarlo anche voi per un periodo di prova gratuito vi basta semplicemente cliccare il link che trovate nella descrizione di questo video. Luminar Neo possiede tutte le funzioni di un normale software di fotoritocco, ma in più offre strumenti innovativi basati sull'intelligenza artificiale in grado di gestire qualsiasi tipo di lavoro. Questo è come si presenta il programma una volta aperto, abbiamo il catalogo dove possiamo vedere tutte le foto che abbiamo caricato nel programma e in più come vedete qui al lato possiamo creare delle cartelle o degli album personali per organizzare le nostre immagini in modo più ordinato. Le opzioni disponibili in questa schermata sono quelle essenziali, quelle che bastano per un'organizzazione sommaria del nostro flusso di lavoro, perché come vedrete la maggior parte della magia si compie nelle altre due schede. Qui in alto possiamo infatti passare a due altre schermate che sono di modifica. La prima è quella dei preset, dove possiamo applicare, come dice il nome, degli stili già pronti all'uso, progettati da fotografi professionisti di ogni genere. L'utilizzo di preset può essere un'opzione molto utile per tutti quei fotografi che vogliono risparmiare tempo nella postproduzione, ma se vogliamo avere il pieno controllo del nostro editing e modificare manualmente ogni singolo parametro possiamo comunque farlo nella sezione modifica. Qui a destra vedete che abbiamo due schede, strumenti e modifiche. La scheda strumenti in pratica ci fornisce tutto quello di cui abbiamo bisogno per la modifica di un'immagine, ma la vedremo a breve in modo più dettagliato. Ora, se andiamo invece su modifiche, vediamo tutte le voci che abbiamo applicato tramite il preset e se vogliamo modificare qualche parametro possiamo farlo da qui in modo da personalizzare ancora di più il risultato finale. Questa scheda è dove torneremo ogni volta che vorremmo vedere o modificare tutti gli interventi che abbiamo fatto su di una foto. Da questo pannello possiamo sfruttare tutta la potenza di questo programma. Come vedete abbiamo degli strumenti più comuni come la correzione dell'esposizione, le curve e colore, fino alla possibilità di creare maschere per il ritocco selettivo. Fin qui nulla di nuovo per chi utilizza da tempo un qualsiasi software di postproduzione, sono disponibili opzioni per gradiente lineare, gradiente radiale e lo strumento pennello per le regolazioni più precise. Ma ecco dove si distingue Luminar Neo, l'integrazione di tutte queste funzioni con l'intelligenza artificiale. Proviamo a cliccare infatti su maschera AI e vedete che il programma adesso sta analizzando la foto. Una volta terminata l'analisi qui al lato possiamo notare che lo strumento ha identificato diversi elementi all'interno della foto e li maschera automaticamente. In pratica non dovremo più passare anni con il pennello a colorare manualmente le aree, lo strumento maschera AI punta proprio ad accelerare questo processo. La maschera AI cerca e identifica otto diversi elementi sono umani, flora, acqua, montagne, architettura, trasporti, suolo naturale e suolo artificiale. Una volta che questi elementi sono stati identificati dallo strumento mask AI basta fare clic su quello che desideriamo modificare e questo verrà evidenziato in rosso. Ogni modifica fatta a questo punto verrà applicata solo sull'area rossa. Gli strumenti che sfruttano il potenziale dato dall'intelligenza artificiale sono diversi. Ad esempio guardate cosa fa la voce luce modificata. La tecnologia Relight AI calcola la profondità di una foto e crea una mappa 3D. In questo modo Luminar può controllare la luce in modo naturale potendo illuminare la parte più vicina o più lontana di un'immagine in base al calcolo della profondità. Un altro strumento che mi ha veramente colpito è la voce cancella perché sapete bene se usate anche voi altri programmi quanto è difficile cancellare qualcosa al primo colpo. Ebbene non solo mi sono stupita di quanto sia accurato questo strumento nella rimozione di elementi nella foto che ci disturbano ma queste due voci aggiuntive sotto ci consentono con un solo click di togliere eventuali macchie di polvere sporco che possono comparire quando abbiamo il sensore sporco per esempio e i cavi dell'elettricità nelle foto addirittura. E lo fa anche dannatamente bene. Inoltre se scattate persone troverete utile anche la sezione dedicata ai ritratti, strumenti per modificare il corpo, la pelle e il viso andando a lavorare selettivamente su occhi e bocca ma anche ad esempio per accentuare il bokeh. Se non avete avuto modo di crearlo in camera ecco che con un click Luminar Neo sfoga lo sfondo dietro al soggetto che invece rimane nitido e definito. Ovviamente troverete tutti gli strumenti di cui avete bisogno anche se scattate paesaggi come ad esempio Atmosfera che utilizza la I per posizionare nebbia e foschia nella foto in base a una prospettiva realistica mascherando il soggetto principale ed evitando in questo modo che venga coperto anch'esso dall'effetto. E inoltre nell'apposita voce paesaggio troviamo altre voce utilissime come il miglior a fogliame, alba tramonto che ci aiuta a ricreare la bellissima luce della golden hour, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Ah e non vi ho parlato dei livelli, qui a sinistra possiamo aggiungere vari layer sopra all'immagine originale e aggiungere diversi effetti come bagliori, luci e bokeh. Possiamo aggiungere tutti i livelli che vogliamo e usare le modalità di fusione e mascheratura potendo lavorare su ogni livello anche con tutti i preset di Luminar e degli strumenti AI. Come? Non avete proprio voglia e tempo di star lì a spippolare con i vari slider? Niente paura, Migliora con AI è lo strumento perfetto per iniziare. Con lo scorrimento di un solo slider l'intelligenza artificiale fa tutto il lavoro per noi, migliorando le nostre immagini in un istante, andando a regolare ombre, luci, contrasto, tono, saturazione, esposizione e dettagli. E se il cielo è noioso possiamo cambiarlo scegliendo tra le tante opzioni che Luminar AI ci offre in questo pannello. La tecnologia Sky AI è progettata per funzionare con cieli piatti, cupi o spenti. Utilizzando la potenza dell'intelligenza artificiale lo strumento cielo AI analizza automaticamente un'immagine, identifica dove inizia e finisce il cielo e con un clic lo sostituisce perfettamente, aggiungendo anche un leggero color grading al resto dell'immagine per unificarla e darle un aspetto realistico. Guardate l'effetto che restituisce sui riflessi dell'acqua. Ovviamente come ogni tool che vi ho mostrato, i più creativi possono andare ad effettuare ulteriori modifiche manuali, selezionando un cielo tra quelli disponibili oppure caricandone uno proprio. Non vi ho ancora però parlato delle estensioni. Cliccando qui in alto su Extra si possono aggiungere altri strumenti più specifici, a seconda del nostro flusso di lavoro. Al momento come vedete io ho installato tutte le estensioni disponibili, ma assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella perché sono in arrivo nuove estensioni a breve e ve ne parlerò sicuramente appena usciranno. Nel frattempo vi mostro cosa fanno queste funzionalità, a partire dalle tre che avrete sicuramente visto qui al lato nel pannello strumenti. Sono tutte estensioni basate sull'intelligenza artificiale. Senza disturbi è uno strumento di livello professionale basato sull'intelligenza artificiale che aiuta a ridurre il livello di rumore su un'immagine. L'estensione senza disturbi rimuove il rumore ma conserva tutti i dettagli della foto. L'estensione Super Nitido invece è utile per recuperare dettaglio in quelle foto morbide affette da motion blur, dove la messa a fuoco è proprio sbagliata. La I calcola la profondità, la prospettiva e il contesto della foto. Con queste informazioni Super Nitido può eliminare la sfocatura e correggere la messa a fuoco ottenendo un'immagine super nitida e dall'aspetto naturale. Luce magica è il mio preferito. Questa estensione ci consente di modificare le fonti di luci presenti nella foto. La I analizza la foto e cerca eventuali punti che emettono luce, quindi ci consente di renderli più intensi, aggiungere raggi e regolarne il migliore. Funziona benissimo con fonti di luce artificiale come lampadine, lampioni e luci decorative. Rimozione background la troviamo invece all'interno delle proprietà del layer ed è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che rimuove automaticamente lo sfondo da qualsiasi soggetto sulla foto. Questo strumento vi fa letteralmente dimenticare le lunghe ore passate a selezionare manualmente ogni cosa. La I riconosce anche altri oggetti sulla foto, come fa Masca AI. Possiamo quindi selezionare più oggetti che vogliamo che rimangano e rimuovere tutto il resto dalla foto. Usando poi un pennello di rifinitura possiamo correggere eventuali imperfezioni in pochi secondi. Tornando invece al catalogo, qui di lato notiamo altre estensioni. Fusione HDR è una tecnologia personalizzata in Luminar Neo per unire fino a 10 immagini con bracketing dell'esposizione in una singola foto HDR. Offre un livello spettacolare di miglioramento del colore, rendendo il risultato finale il più vicino possibile a ciò che l'occhio umano può vedere. A proposito, possiamo anche iniziare con una sola foto e l'intelligenza artificiale integrata aumenterà la sua gamma dinamica analizzando e regolando più parametri come tono, contrasto e dettagli. Con questa estensione Luminar Neo si sta trasformando in una soluzione veramente completa per i fotografi di paesaggi e architettura. Unendo fino a 10 foto insieme, il livello di dettaglio e il miglioramento del colore sono spettacolari, in più abbiamo l'allineamento automatico quando abbiamo scatti leggermente disallineati e la riduzione del ghosting quando c'è un oggetto in movimento nell'inquadratura. Il focus stacking invece combina le foto scattate a diverse lunghezze focali per fornire un risultato nitido con una maggiore profondità di campo rispetto a qualsiasi singola foto sorgente. Questa estensione può unire fino a 100 immagini sorgenti, allinearle e ritagliarle automaticamente, tutte in base alla foto di riferimento. Applica anche automaticamente le correzioni dell'obiettivo ed elaborazione cromatica per le foto non elaborate. Infine abbiamo Ingrandisci, questa tecnologia basata sempre sull'intelligenza artificiale migliora la risoluzione dell'immagine in modo naturale. Funziona in questo caso con file non RAW e può ingrandirli fino a 6 volte la loro grandezza. Se siete arrivati fin qui avrete ormai capito che il Luminar Neo è un software di fatto ritocco intuitivo e facile da utilizzare, pieno di funzioni super innovative. Grazie al suo editing basato sull'intelligenza artificiale, Luminar è in grado di soddisfare le esigenze degli editor più esperti, ma è adatto anche a chi è alle prime armi. Soprattutto a chi è alle prime armi direi. L'interfaccia di Luminar è molto intuitiva infatti e lo rende adatto secondo me a chi vuole iniziare e non sa da dove partire. Con Luminar ci si sente liberi di sperimentare tutti i tool che il software ha da offrire senza però sentirsi limitati. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Se siete dei fotomatori e non volete spendere molto tempo davanti allo schermo del vostro pc, senza dubbio posso dirvi che Luminar è la soluzione migliore ai vostri problemi, avendo anche una curva di apprendimento molto semplice e ottenendo risultati però sempre professionali. Se invece come me passate ore e ore a può sprodurre grandi modi di fotografia al giorno, Luminar Neo è un'ottima integrazione al flusso di lavoro, potendolo integrare con i software di Adobe come Lightroom e Photoshop. Quindi per esempio se voglio sostituire un cielo o aggiungere un po' di atmosfera alla mia foto, posso farlo grazie al plugin e risparmiare un sacco di tempo facendo svolgere i lavori più lunghi e noiosi all'intelligenza artificiale. Se avete già esperienza con i software di Skylum sappiate che il nuovissimo motore modulare, differenzia Luminar Neo da tutte le precedenti versioni di Luminar. Questo vuol dire che il nuovo software è molto veloce nel calcolo delle lavorazioni delle immagini, permettendoci di applicare tanti tool diversi su una foto senza perdite di prestazioni significative. Gli strumenti di rimozione dei fili della luce e della polvere sul sensore fanno risparmiare un sacco di tempo, per non parlare delle maschere intelligenti e della sostituzione del cielo. Lavorano molto bene a mio avviso e sono i tool migliori che ho potuto provare fino ad ora. E non dimentichiamoci anche che presto arriveranno altri aggiornamenti. Chissà cosa aggiungeranno, scrivetemi nei commenti cosa vorreste vedere tra le novità. Luminar Neo è disponibile in abbodamento mensile o annuale, ma anche in versione a vita, ovvero lo compriamo una volta e rimarrà per sempre nostro. In più, abbiamo una garanzia di rimborso di 30 giorni se non si è soddisfatti e l'assistenza tecnica presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi ricordo che se volete provarlo anche voi per un periodo di prova gratuito vi basta semplicemente cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo video. Beh, spero che questo tutorial vi sia stato utile per scoprire qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto mettete un bel like per supportare il canale e non dimenticatevi di iscrivervi per non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio e vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Grazie a tutti!